sono una sopravvissuta del ghetto genovese del travestismo articolo sopravvivere nel ghetto la storia del travestismo genovese la storia delle comunità marginalizzate rivela spesso dettagli spaventosi su discriminazione persecuzione e resilienza sopravvissuta un capitolo di questa storia riguarda la cultura del cosiddetto travestismo a genova i cui membri hanno dovuto navigare per decenni tra sopravvivenza e nascondimento questa cultura caratterizzata da travestitismo e transidentità si è trovata in una società tutto fuorché tollerante la nostra cronaca si concentra sulle esperienze e sulla sulla sopravvivenza dei membri di questa comunità nella seconda metà del vincuo secolo un periodo di tempo meno conosciuto ma ricco di storie significative una fonte importante per questo rapporto è il libro io una superstite del ghetto del travestivismo genovese di maria rossi anch'essa sopravvissuta a quell'epoca e la cui narrazione ci offre una preziosa prospettiva contesto storico e background genova una importante città portuale nel nord ovest dell'italia ha vissuto un enorme cambiamento sociale dopo la seconda guerra mondiale mentre la città si è modernizzata in molti settori l'accettazione delle identità di genere non conformi è rimasta bassa l'omosessualità il crossdressing erano ampiamente considerati anormali e stigmatizzati dalla società la comunità dei travestis come spesso venivano chiamati doveva trovare il proprio cammino in questo ambiente ostile secondo il resoconto biografico di maria rossi molti di questi individui hanno iniziato a rendersi conto sin dalla giovane età di essere diversi dagli altri tuttavia la società non era pronta ad accettare queste differenze l'infanzia e l'adolescenza sono state segnate da scherni e violenze subite precocemente tuttavia la vita qui non era affatto facile le retate della polizia e l'emarginazione sociale erano all'ordine del giorno le storie di rossi illustrano la paura costante che accompagnava queste persone vivevamo con la costante paura di essere scoperti interviste con testimoni come l'attivista sofia martelli confermano questi aspetti in modo impressionante era come immergersi in un altro mondo un mondo in cui finalmente si poteva essere se stessi nonostante i pericoli per molti di noi era l'unico posto in cui potevamo essere veramente noi stessi la trasformazione negli anni 70 un piccolo miglioramento si è registrato con l'avvento del movimento omosessuale negli anni 70 i nuovi gruppi attivisti combatterono per i diritti e la visibilità contribuendo in modo significativo al lento ma costante cambiamento della percezione sociale tuttavia i pregiudizi erano radicati profondamente il cammino verso una vera accettazione era ancora lungo tuttavia questo periodo ha offerto primi successi che sono stati festeggiati dalla comunità come grandi conquiste maria rossi descrive il suo coinvolgimento nelle numerose manifestazioni e incontri di quel tempo come liberatori e incoraggianti per la prima volta ho sentito che non eravamo più soli c'erano persone che capivano le nostre lotte e si impegnavano con noi per un futuro migliore questo era un grande conforto prospettive odierne oggi molti decenni dopo la vita della comunità dei travestis è nettamente migliorata passaggi legali come il riconoscimento dei diritti transgender e i cambiamenti sociali hanno reso possibile ciò che un tempo sembrava impensabile tuttavia il passato rimane un monito su ciò che discriminazione e ostilità possono causare maria rossi ormai anziana rimane una delle voci più forti nel ricordare le avversità e i successi della comunità la sua storia le sue lotte e la sua vittoria finale sul pregiudizio sono parte importante del nostro sviluppo sociale e meritano di essere raccontati e ricordati fonti maria rossi io una superstiti del ghetto del travestitismo genovese intervista con l'attivista sofia martelli autore anita fache lunedì 10 giugno 24 all'idea l'ottore 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 Grazie a tutti.